Primo incontro subito operativo tra il commissario per la bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone, Elisabetta Belli, e il nuovo prefetto di Crotone, Cosima Distani. Al centro del confronto che si è tenuto nel pomeriggio del 13 scorso in prefettura, l'importanza del ruolo della prefettura quale autorità competente per gli interventi previsti nel Decreto Legislativo 230 del 1995 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla certezza dei tempi di conclusione del procedimento di approvazione del piano operativo di bonifica della rimozione delle discariche fronte mare e delle aree industriali di Sindial, la cosiddetta fase 2. Nel corto dell'incontro si è rilevata l'importanza di tutelare oltre al territorio e la salute dei lavoratori e dei cittadini lo sviluppo occupazionale. A tal fine la dottoressa Distani ha informato la dottoressa Belli che sarà stipulato dalla prefettura un protocollo di legalità sulla cui importanza entrambe le parti hanno convenuto. Il commistario del canto suo ha reso noto che proprio con questo obiettivo che si svolgerà il secondo incontro in Camera di Commercio per favorire il coinvolgimento delle imprese locali qualificate nonché delle aziende locali di più piccole dimensioni, anche mediante forme di aggregazione, nell'esecuzione dei lavori di bonifica nelle ex aree industriali. Il prefetto e il commissario hanno espresso la volontà di interfacciarsi sulle prossime fasi cruciali del provvedimento.